L'Azione vuole partire dal centro-sinistra perché siamo in opposizione in comune, in regione, al governo e vuole partire per capire se i nostri contenuti, i nostri programmi sono riconosciuti e riconoscibili. Abbiamo bisogno di dare centralità alla sanità pubblica in regione Liguria. Mancano risorse, mancano persone, operatori e abbiamo il rischio default che sarebbe durissimo per la salute e le tasche dei genovesi e dei Liguri. Noi chiediamo attenzione al lavoro, al lavoro giovanile, alle politiche del lavoro, della formazione e dell'insieme di verticalizzazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro perché dobbiamo dare stabilità e tornare attrattivi per i giovani che continuano, malgrado le promesse di Bucetotti, ad andare via. Politiche infrastrutturali sono strategiche e necessarie, ma non tutte quelle che sono state proposte. Ne avevamo detto di no a fare i piloni sul bisagno perché sono pericolosi e abbiamo la necessità che invece Regione metta in atto i piani che Totini hanno voluto mettere in campo perché danno fastidio ad alcuni sindaci. C'è il piano della gestione alluvioni che viene determinata anche dalle mareggiate quindi il piano di garanzia rispetto al problema della costa abbiamo il problema dell'aria, siamo in infrazione e noi abbiamo un piano pronto degli uffici che non è mai stato approvato. C'è da chiarire se alcuni come Vaccarezza, Piana, Mai, non vogliono il regassificatore a vado e Totti sì, ma adesso faranno una bella conferenza stampa e ci diranno a che punto sono. Così come col forno crematorio, Forza Italia ha detto che a Staglieno non va fatto. I piani regionali lo escludevano, non abbiamo approvato quei piani perché davano fastidio a Bucci. Ecco, io vorrei che il candidato e la coalizione a cui potremo aderire si assumesse l'onere, la responsabilità di fare le cose che Regione deve fare anche se in contrasto con categorie, gruppi di interesse e alcuni comuni perché l'interesse del bene comune è superiore allo specifico interesse di quello o quell'altro comitato elettorale. Grazie a tutti.